Sanna Zampa, sottosegretario alla Salute, oggi arrivano i primi dati che segnano un timido miglioramento rispetto ai contagiati e ai colpiti dall'emergenza sanitaria coronavirus. Ecco, sottosegretario, qual è la situazione? Possiamo sperare? Possiamo, diciamo, avere ragione di conforto riguardo alle scelte che sono state fatte. Sono state scelte molto pesanti che hanno costretto le nostre famiglie, noi stessi, a gravissime limitazioni e quindi non facili. Posso assicurarle che decidere di chiudere un paese con tutte le persone che lo abitano è davvero quasi fantascientifico. Non avresti mai immaginato di poterlo sentire dire, fermo restando, che la decisione è stata presa appunto dal ministro Speranza e poi dalla regione Lombardia, per esempio a Codogno, ma è stato fatto lo stesso a Vaux, e poi un pezzo alla volta laddove è stato necessario. Ma anche tutte le limitazioni, le chiusure, le limitazioni delle libertà, le chiusure dei ristoranti, della vita sociale, di tutto quello, diciamo, a cui siamo abituati quando parliamo di socialità. Ecco, avere fatto questo, però, si sta rivelando la strada giusta e quindi questo conforta. È presto, naturalmente, per trarne conclusioni, ma non è presto per dire che ogni persona in più che non viene contagiata è uno straordinario successo. Certamente per ognuna di loro di meno ci sarà una ragione in più per essere contenti. Sottosegretario, si insiste per tutelare i medici, gli infermieri, chi lavora dentro gli ospedali e che in questo momento si trova in trincea, cioè proprio sulla prima linea della lotta al virus. Ecco, ci sono dei ritardi nella fornitura di materiali di sicurezza, mascherine, tute? Si sta ovviando a questo ritardo? Si sta facendo l'impossibile, guardi. Io ho visto il commissario Arcuri lavorare veramente pancia sotto, devo dire, mi sembra anche con una notevole capacità. Siamo passati, solo per darle un dato, da un milione di mascherine fornite fino al 15 di marzo al giorno a tre milioni di mascherine. E non è stato semplice, non è semplice, non sarà semplice acquistare in giro per il mondo, perché siamo dovuti andare in giro per il mondo. Le aziende italiane e la produzione italiana non era pronta, ora si stanno riconvertendo aziende, ci si sta mettendo a lavorare, bisogna che gli imprenditori italiani anche collaborino moltissimo in questa direzione. Noi abbiamo estremo bisogno di questo. Voglio anche dire però che le aziende ospedaliere devono avere e devono mettere al primo posto qualunque, come prima assoluta priorità, la sicurezza di chi lavora negli ospedali. Quindi fare in modo che siano tutelati con qualunque risorsa è a disposizione. E infine voglio dire che il modo per tutelarli è quello di isolarci noi, perché ognuno di noi in più che si ammala non ha fatto solo un danno enorme ovviamente a se stesso, ma produce quel di più di accesso al pronto soccorso, di peso sulle strutture sanitarie, che le strutture sanitarie fanno davvero molta fatica a reggere. Sottosegretario Zampa, una volta finita l'emergenza, perché finirà, bisognerà anche ripensare, riorganizzare il nostro sistema sanitario, più investimenti serviranno, serviranno risorse? Serviranno molti ripensamenti, molti. Da questa crisi, se siamo un grande paese, come andiamo raccontando, dobbiamo uscire cambiati in meglio. E per cambiare in meglio bisogna avere l'umiltà di comprendere quali sono i buchi, gli errori, le falle, le mancanze. E bisogna ovviare. Certamente, voglio solo dirgliene una, guardi, a proposito di sicurezza dei sanitari. In questi giorni siamo stati travolti dall'emergenza e quindi tutto è stato spazzato via. Ma se non fosse accaduto l'emergenza Covid-19, il Parlamento italiano si sarebbe trovato a approvare una legge che mette in sicurezza dalle aggressioni dei cittadini, i medici, gli infermieri e gli assistenti sociali e gli operatori sociosanitari. Ricordiamocene oggi che li ringraziamo in ginocchio del loro sacrificio, di quello che questo paese era arrivato a compiere. L'ultima domanda riguarda questa autorizzazione che è arrivata oggi dall'AIFA sulla sperimentazione di questo farmaco giapponese. Lei ha detto di fare attenzione, però questa sperimentazione verrà fatta. L'AIFA ha ritenuto che fosse meglio dire di sì. Noi naturalmente ci rimettiamo all'AIFA e questo dimostra ai cittadini italiani quanto rispetto interistituzionale e istituzionale ci sia e dimostra soprattutto che ognuno deve fare la propria parte. L'ultima parola in materia di farmaci, anzi la prima, e l'ultima parola ce l'ha l'AIFA, la sperimentazione mostrerà se questo farmaco che fino ad oggi non ha dato evidenze scientifiche tali da essere considerato utile, può essere utile. E va benissimo se lo dovesse, ovviamente, anzi ci auguriamo che la sperimentazione possa dare risultati confortanti. Grazie. Grazie. Grazie.